buongiorno nel nostro spazio canale associazione paese delle donne oggi ospitiamo un libro un po particolare il libro di franca carboni su grazia del edda e lettino della psicanalista e un libro non solo particolare nell'impianto e nello sguardo ma anche particolare nell'esperienza dell'autrice di cui adesso vi do qualche notizia e franca carboni un'america neuropsichiatra e psicanalista nata ad orani nell'altro secolo come scrive lei appassionata della sardegna e della lettura tra l'altro questo libro ha come caratteristica di essere o il primo edito comunque un esperimento di questa nuova casa editrice e che comincia molto bene diciamo sotto dei fausti auspici questo grazia del edda e lettino della psicanalista ripercorre quattro novelle di grazia del edda che vi ricordo sapete tutti è stata l'unico premio nobel italiano della letteratura e ai primi del novecento ha avuto sia una personalità sia un tratto di vita sia una scrittura assolutamente straordinaria le quattro novelle che sono visionate analizzate meglio dire in questo libro sono cosima canna al vento l'edera e il cinghialetto su ognuno di queste quattro ci faremo dire qualche nota da franca carboni alla quale adesso chiediamo subito il perché ha scritto innanzitutto questo libro grazie e maria paola grazie all'associazione del paese delle donne ho scritto il libro pensando che potesse diventare un libro di servizio gli argomenti di cui tratto sono poco conosciuti e poco noti al grande pubblico e rileggendo grazia dell'edda mi sono accorta che lei è talmente capace di pennellare e descrivere non solo la natura i paesaggi luoghi ma anche i pensieri delle persone partendo dai suoi pensieri sono riuscita a vedere come lei era in grado di parlare esattamente di quello che le persone sentivano quindi ho visto un atlante emozionale dentro i suoi libri e ho pensato di restituirlo con una visione professionale ma divulgativa cioè che fosse comprensibile a tutti. Tu nell'anticipare l'analisi di Cosima scrivi non so quanto grazie abbia davvero scritto questo libro ma capisco perché è rimasto nel cassetto fino alla sua morte perché Cosima passa per essere ed è la sua autobiografia e cominciamo di qui allora cosa ti ha incuriosito di particolare nel romanzo Cosima il coraggio e la che non ha senso di colpa ad attribuire ai suoi parenti dice esattamente le cose come sono ma non attribuisce loro delle colpe racconta tutto non omette e così comincia a capire in Cosima come lei abbia potuto poi parlare di tanti altri personaggi con caratteristiche simili questo mi ha davvero affascinato nominare le cose nominare le persone è un atto molto coraggioso. Tu scrivi io percorro la tua scrittura perché è estremamente lineare sintetica ed efficace tu scrivi che molti scrittori sono stati suggestionati da scrivere o riscrivere un romanzo familiare e che appunto grazie non ha avuto questa tentazione però è riuscita a regalarci un universo di pensieri e comportamenti che spaziano da una normale vita adattiva a momenti di pura follia declinando una molteplice varietà sintomatologica come come hai analizzato questo tratto particolare di questa scrittura cos'è che ti ha affascinato all'inizio intanto è uno dei motivi per quello è stato uno delle motivazioni nel conferimento del Nobel che lei tratta di fatti e di persone che come dire appartengono a tutti. La cosa che mi è piaciuta molto è che lei non dà descrizioni di fogli o di matti ma lei racconta come le persone in molti momenti della loro vita difficili possono presentare sintomi che poi possono nello star meglio regredire oppure nello star peggio andare oltre e finire dentro la malattia mentale. In anni in cui ricordiamoci i primi del novecento la malattia mentale nosograficamente esisteva soltanto per la schizofrenia la mente divisa. Lei parla di nevrosi quando Freud stava cominciando a delinearle e quindi lei parla dei sintomi. Questo mi è sembrato un punto di vista molto interessante cioè tutti siamo portatori di sintomi e disponibili con i nostri sintomi se maltrattati in generale o se andiamo incontro a delle situazioni avverse a stare molto male oppure a venirne a capo e venirne fuori. Nell'introduzione di cui io sono stata una canita lettrice l'ho letta e l'ho riletta perché è breve ma molto densa tu dici cosa differenzia un disturbo chiedi cosa differenzia un disturbo da un'abilità talentuosa questo mi sembra veramente un orizzonte da esplorare. Mi affascina molto io ho lavorato con i ragazzi e con i bambini in età evolutiva per 40 anni alcuni di questi soggetti avevano sintomi comportamentali che inseriti in ambienti rigidi la scuola volta e non perché la scuola sia rigida ma perché ha delle pretese di rigidità e di norma stavano molto male in altri contesti erano molto più funzionali di altri come dire che ognuno di noi ha uno spazio un luogo una dimensione per poter stare bene quindi probabilmente dovremmo rivedere il fatto che tutti dobbiamo avere la stessa cosa ognuno di noi merita cose diverse e questo spiega anche l'evoluzione delle persone i ragazzini iperattivi sono sicuramente quelli che i loro progenitori sono quelli che sono partiti dall'africa e hanno nel centro dell'africa hanno esplorato il mondo questo vuol dire che ognuno di noi ha una dimensione trovare la dimensione delle persone soprattutto dell'età evolutiva diventa il prendersi cura senza bisogno di dover curare io ricordo che grazie a maria dell'edda damiana si chiamava anche grazie a maria cosima damiana dell'edda un nome lunghissimo nata quinta di sette figli e figlie ha scritto in cosima di avere solo sei sei in questo nucleo familiare di fratelli e di sorelle qual è la spiegazione secondo te secondo me non c'è una spiegazione perché c'è una cosa che a me manca nessuno ha mai detto quando così è stata scritta noi sappiamo quando è stata pubblicata quindi sicuramente c'era tutta la famiglia l'ultima probabilmente che è nata è la sorella che con cui lei aveva più affinità che poi era anche lei un artista una pitrice con la quale si è trasferita a roma nicolina però delinea la personalità di dei 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 sei diciamo parla del padre della madre e dei cinque e quindi probabilmente voleva fermarsi lì non lo so so fermiamoci su un altro aspetto di questo libro che è per esempio canne al vento un aspetto conosciutissimo canne al vento e forse tra le novelle romanzi più letti anche nella scuola entrato e non soltanto nella scuola italiana un passaggio del tuo scritto su canne al vento che nel vento romanzo corale non c'è un unico protagonista anche se sembra ogni tanto di intravederlo cambiando le pagine cambia il punto focale però un romanzo molto molto singolare e anche molto moderno non nella misura che ancora qui esistono queste cose ma nella misura che in molte parti del mondo ancora queste storie esistono abbiamo un padre padrone paranoico che maltratta le figlie abbiamo un servo che sacrifica completamente la sua vita come tutti quelli che sacrificano la propria vita finisce che diventano padroni di quelli per cui la sacrificano abbiamo tre donne chiuse in casa prigioniere una quarta è scapata la quarta che è scapata che l'unica che ha deciso andarsene è quella che ha fatto un figlio abbiamo un ragazzo che arriva un ragazzo con una sindrome iperativa chiarissima e abbiamo dei movimenti talmente complessi dove tornando alla domanda che facevi prima quello sulla dimensione sul posto sul luogo ognuno di essi di questi personaggi immaginati in altri posti probabilmente avrebbe agito in modo diverso messi tutti insieme hanno determinato questa coralità drammatica lirica anche dove però i tratti dalle persone delle psicopatologie sono fortissime facciamo qualche passaggio sull'edera l'edera invece contrariamente a canna al vento è una novella letta molto meno a torto secondo me però non ci sono io la parliamo un attimo di edera nell'edera c'è una storia di una famiglia decaduta ed è una famiglia decaduta per debiti hanno cominciato a fare i debiti il nonno poi il figlio poi il nipote e il nipote ha portato a termine la decadenza di questa famiglia due cose molto belle all'edera la tristezza di una donna la ex padrona di casa benestante che si trova a lavorare e senza avere più la forza per recuperare quello che è stato perso e quindi la povertà che arriva in vecchiaia questa è una condizione che a me mi rattrista molto e poi l'ha il tratteggio del protagonista paolo che è un bipolare con con dichiarazioni spesso e volentieri di volersi suicidare di voler morire che maltratta una serva annesa una ragazzina fra l'altro trovata per strada stava con un mendicante che è morto di cui non sappiamo le origini annesa come tante ragazzine violate finisce per scegliere il peggio per se stessa e si rimette nelle mani di un uomo maltrattante paolo la maltratta la picchia la prende la lascia e ogni volta che annesa cerca di dire lasciamoci paolo gli dice senza di te io mi ammazzerò e lei come tante donne che hanno dentro di sé il seme della vita non ha il coraggio di lasciare in quest'uomo di salvarsi per cui va incontro al suo destino è un destino talmente estremo che finirà per compiere un gesto che diventerà il gesto centrale del romanzo di cui però non vi racconto perché altrimenti sarebbe come raccontare il libro ed è più bello leggerlo questo che tu hai descritto è un procedimento esattamente opposto allo stereotipo della donna che vuole salvare l'uomo a tutti i costi salvare il compagno della torcerossina vita insomma in questi romanzi e novelle di veledda c'è questa varietà infinita e così anche nel cinghialetto un altro passaggio lo possiamo fare rispetto a quest'ultimo cinghialetto ecco vorrei poter dire una cosa così si capisce meglio il senso anche del libro allora le emozioni il mondo è cambiato da quando grazia dell'edda scritto le emozioni e sentimenti non sono cambiati una relazione come quella tra paolo annesa in ledera oggi verrebbe definita una relazione tossica o verrebbe definita una dipendenza affettiva quella di annesa quindi già questa è una cosa che è modernissimo nel cinghialetto c'è un dato di modernità molto particolare che è il fatto che parla di un ragazzino che ha delle abbuffate alimentari e un disturbo della condotta alimentare che oggi è molto frequente purtroppo che non faceva parte di quei tempi perché problemi di disturbo della condotta alimentare non fanno parte in genere di popoli molto poveri dove c'è fame invece lei descrive questo bisogno con questa compulsione a mangiare in un maschio perché disturbi della condotta alimentare normalmente vengono attribuiti alle donne in un maschio e con il quale con questo comportamento questo ragazzino antipaticissimo ricata i genitori e ottiene tutto quello che vuole i genitori gli danno cose il ragazzino vorrebbe altro come tanti ragazzini vorrebbe probabilmente segni d'affetto i genitori che sono benestanti gli danno cose gli comprano cose lui ottiene strapandolo a un bimbo poverissimo il cinghialetto e poi lo sparerà senza nessuna emozione qui viene fuori un'altra modernità enorme che è il tratto calloso anemozionale è un disturbo descritto molto poco ed è diciamo da cui nosografia è recente e che appartiene a persone che sono incapaci di provare emozioni per le emozioni degli altri e anche questo è una cosa straordinaria perché ritroviamo in questi romanzi che abbiamo detto e disturbi del comportamento ritroviamo le relazioni tossiche ritroviamo i bipolari borderline ritroviamo i disturbi della condotta alimentare ritroviamo cose di cui seguiamo parlare ogni tanto ma di cui non abbiamo consapevolezza e per questo che all'inizio io dicevo volevo volevo che diventasse un libro di servizio utile a capire un po di più noi ma anche gli altri tu scrivi nelle piccoli tratti di biografia di autobiografia che lasci nell'introduzione con le piccole orme della tua vita che è passata da Orano a Sassari poi a Nuoro di questi cambi di approccio anche alla all'utenza chiamiamola così in modo generico uscendo dal libro che tu hai scritto e finendo con la tua esperienza in un territorio appunto come la Sardegna e in un'epoca che mi ha attraversate abbastanza di cambiamenti di cose e quale può essere una tua riflessione sull'oggi sull'oggi oggi noi non capiamo non sappiamo secondo me c'è un ignoranza enorme tutti danno delle spiegazioni ma sono tutte spiegazioni con un unico punto di vista cioè ognuno di noi vede fatti o quello che succede col suo cannocchiale che chiaramente da un punto di vista secondo me dobbiamo mettere insieme tutte le cose per capire meglio ma dobbiamo mettere insieme anche le parti che riguardano le emozioni sentimenti le psicopatologie solo così possiamo cercare di capire un esempio potrebbe essere quello di cercare di capire meglio per esempio le persone con cui vivo con cui sto per capire bene che cosa quali sono i movimenti per me possibile capire meglio i ragazzi e capire meglio per esempio un'altra cosa se posso dirla velocemente è che le emozioni primarie nascono con noi ma poi nel tempo le nostre emozioni diventano emozioni secondarie sempre più ricche più raffinate più modulate ecco i libri per esempio ci consentono di dare un nome a queste emozioni secondarie non leggere non sapere queste cose significa che io non so raccontare a me stessa e agli altri per esempio le mie emozioni questo è il potere dei libri io però uscirei dal libro scritto nel senso che i ragazzi queste cose anche a quelli che non hanno voglio dire voglia di leggere gliele possiamo comunque dire raccontare e allora utilizzando altri canali di comunicazione possiamo in qualche modo arricchire loro e fare in modo che loro raccontino di più se stessi per poterli capire meglio grazie a franca carboni noi chiudiamo su questa riflessione che da soli da sola merita un altro incontro e ricordiamo che questo libro franca carboni grazie a dell'elena e lettino della psicanalista edito da la casa editrice sardinia 4 che appunto è suoi esordi e che noi seguiremo certamente con attenzione grazie franca e alla prossima per quelli che ci stanno ascoltando e quelle che ci stanno ascoltando grazie a te